Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video haul, ma prima, sigla! Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video haul, un haul un po' misto, accessori, poi anche abbigliamento, ma soprattutto unghie, unghie, unghie che passione, e iniziamo per l'appunto con le unghie, da Aliexpress mi è arrivato questo water decals con questa fantasia animaliere e questo water decals con la fantasia marmorizzata o marbled, sono due effetti che io adoravo, ma che ancora non avendo fatto corsi di nail art non mi sono voluta cimentare e non ho voluto rischiare e comunque avendo la possibilità di averli a disposizione, non ci ho pensato due volte e li ho acquistati al modico prezzo di 40 centesimi su Aliexpress. Poi sono andata al mio solito gruppo Clam e ho preso i nuovi water decals dei stickers 3D della Blackstar. Innanzitutto ho preso questo delizioso foglio di sticker in rosa, voi lo sapete che il rosa è la cosa che adoro di più e ha delle bellissime fantasie, sembrano foglie, sembrano grappoli d'uva, non si capisce, comunque sono impreziositi da queste perle e veramente fanno un effetto elegante sull'undia. Effetto un po' tribal, un po' tridimensionale abbiamo questo, questo sicuramente sarà ciò che adopererò in inverno. Io adoro gli sticker 3D perché comunque da soli fanno la nail art. Poi, fantasia elegante che secondo me possiamo anche utilizzare a Natale con un bel color nude, a Natale questo secondo me è la fantasia di sticker 3D più adeguata. e infine con questi fiocchetti sempre impreziositi da cristalli Swarovski abbiamo un'altra fantasia secondo me adeguata per Natale che è proprio questa, fiocchetti bianchi impreziosita per figli d'oro e infine uno Swarovski. e qui abbiamo terminato la parte unghie perché, come vi ho detto, non compro quasi più colori. Quindi, andiamo a ciò che ho preso da OBS e da OBS sono stata molto tentata perché erano arrivate le palettes animalie e speravo e dico speravo che arrivasse il dupe della palette di Huda Beauty la Nude Nude ma non ho voluto comprare ulteriori palette perché me ne sta arrivando una da Aliexpress, speriamo. E quindi mi sono dedicata a una cosa che comunque per ora, voi sapete, è il mio salvavita quando ho i capelli troppo davanti, ovvero i cerchietti. E' arrivata questa linea da OBS della Shaka che praticamente ha fatto tutti questi cerchietti con fantasie meravigliose e io ho voluto prendere questo che è molto molto elegante e lo posso utilizzare anche la sera. Come vedete è stato il mio stratagemma per farmi allungare i capelli perché odio avere i capelli davanti e odio soprattutto quando li ho troppo lunghi e non gestisco l'umidità proprio del capello. Quindi questi sono diventati la mia soluzione. Poi lunedì notiziona, inizio la palestra e quindi ho voluto prendere una maglia basica della linea basica di OBS, taglia L, proprio questa comoda con i leggings di Decadron nelle scarpe da ginnastica, quindi maglia tipica sportiva perché proprio ho il certificato medico e mischerò la palestra. E sono non contenta di più, di più, di più. Sono carica, piena di energie e sono veramente veramente contenta di questa avventura che sto intraprendendo per la mia salute. Poi io non lo so se me lo chiederete ma vi descrivo il trucco che ho fatto oggi. L'ho fatto interamente con la palette di Carmi che sarebbe una palette estiva ma questo trucco molto fluo alla gem e le holograms è proprio preso dalla sua palette e secondo me va bene anche in inverno perché siamo ritornati negli anni 80. Ebbene sì, c'è stato un ritorno commovente al passato, quindi ho voluto proprio utilizzare la Carmi con il suo colore che riprendeva il blue brown di MAC. Era un'imitazione quasi perfetta. Dopodiché ho fatto la mia base appunto con protezione solare della NARS, il correttore che utilizzo sempre sempre e poi infine ho messo un mascara, un mascara della Essence perché voi lo sapete che io li adoro. Il rossetto che mi vedete indosso, che applicato bene, io avevo messo su Facebook le mie prime impressioni, ma applicato bene, sta durando una cifra come veramente il retromatte di MAC e quindi ho trovato un ottimo sostituto poi con un colore che oserei dire è quello che adopero di più in inverno, è proprio il Matte Intense Lipstick di Shogun. Il blush è un blush e saluto a questo punto la mia amica Mini Makeup che mi era stata gentilmente regalata da lei e me l'aveva fatto trovare in un pacco sorpresa. Io avevo preso un maione da lei che mi stava benissimo e mi ha fatto trovare questo pacco meraviglioso sorpresa che non mi aspettavo di trucchi. E fra questi un blush malva scuro con un tocco di top e io l'ho messo appunto nelle gote. E quindi la ringrazio ancora perché molte cose che mi ha regalato lei io veramente le adopero praticamente tutti i giorni, le adoro e sono felicissima dei pensieri che ha sempre nei miei confronti, stando di fatto che ci siamo pure sentite oggi. Quindi sono quelle cose che fa YouTube, ovvero far conoscere le persone in maniera positiva e soprattutto piacevole. Ecco, noi ci mandiamo sempre le foto dei trucchi e io le dedico un bacione. Bene, col mio haul ho terminato, vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Se vi è piaciuto il video like e iscrivetevi e... Alla prossima! Ciao!